E adesso se non sbaglio dovrebbe rilasciare praticamente un'ondata di freddo che creerà quasi un'era glaciale si potrebbe dire Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 22 segno episodio della Crazy Lock a Pokémon Nero 2 Signori miei nello scorso episodio nello scorso episodio sono morti 3 dei nostri Pokémon è morto Viola è morto Majin ed è morto Mewtwo signori Mewtwo che ci seguiva da chissà quanto tempo ora del team fra virgolette caposaldo è rimasta solo Cynthia Sono stati aggiunti Arbok, Costanzo che avete detto tutti di tenere e 383 Arbok al quale non ho ancora dato un soprannome vi chiedo di trovargliene uno Dato che signori miei prima qua c'era Aristide e l'ho fatto spostare io Questo episodio sarà un pochino più corto degli altri perché signori miei in questo periodo sono molto impegnato con la scuola e quindi ho bisogno di tempo E comunque questo periodo sta per finire quindi probabilmente tornerò a fare video anche con molta più diciamo costanza Dato che nella scorsa settimana ho saltato anche qualche giornata però non penso che ricapiterà Ora ti racconterò la storia è un po' lunga ma ascoltala bene Due anni fa due Pokémon Drago furono risvegliate da un lungo sonno Uno era Zekrom il Pokémon Drago Nero che perseguiva gli ideali e aspirava a un mondo di speranza L'altro era Reshiram il Pokémon Drago Bianco che perseguiva la verità e aspirava a un mondo di giustizia Originalmente Zekrom e Reshiram erano però un solo Pokémon Perché quel Pokémon si uscisse? Devi sapere che prima della separazione il Pokémon Drago originale aveva aiutato due eroi gemelli nella creazione della regione di Unima Ma gli eroi gemelli seguivano uno gli ideali e l'altro la verità E per decidere quale dei due fosse nel giusto Spinsero questa regione in una guerra dilaniante che la divise in due A quel punto il Pokémon Drago originale si uscisse in un Pokémon nero e uno bianco Eppure, ideali e verità non sono necessariamente in opposizione In realtà, secondo alcuni quel giorno nacque anche un altro Pokémon Drago Chiurem Il Cuneo DNA, un tesoro che si tramanda di generazione in generazione nella mia famiglia Potrebbe esserne la prova Secondo le ricerche della professoressa Ralia Il materiale usato da questo strumento risale allo stesso periodo di quelli usati per la Torre Dragospira Il Cuneo DNA è custodito in un luogo sicuro Neanche io ne conosco il vero potere E per quanto riguarda il terzo Pokémon Drago Se anche Chiurem esistesse sul serio Nessuno sa che aspetto potrebbe avere E poi, il Pokémon Drago originale si era già diviso in due Pokémon fortissimi Quindi Chiurem potrebbe non essere altro che una specie di involucro vuoto Almeno questa è la mia teoria E signori miei Attacco del Team Plasma Il Team Plasma ha risvegliato Chiurem E adesso ce ne accorgeremo Salutiamo quell'Axion nel frattempo Ma cosa? Guardate che scena signori Cioè, questa scena è qualcosa di fantastico Il vascello del Team Plasma Che vola sopra la regione di Unima E adesso se non sbaglio dovrebbe rilasciare praticamente Un'ondata di freddo che creerà quasi un'era glaciale si potrebbe dire Eccolo lì In quella zona blu che vedete c'è Chiurem, se non ricordo male E il potere di Chiurem verrà convogliato in questo raggio Che congelerà Se non sbaglio la parte superiore di Unima Non vorrei sparare una cavolata Nel frattempo, signori miei Una bella bevuta di acqua fredda Per commemorare l'evento Che roba Ecco qua Che congelano buore duopoli Simbolicamente, no? La città dei draghi Che sono deboli al ghiaccio Ricordo che in questa generazione Il drago, il folletto perlomeno Non era ancora stato inventato E quindi il ghiaccio era l'unico elemento Oltre al drago super efficace sui draghi Quasi simbolicamente I draghi vengono colpiti dal ghiaccio Un po' come se volessero presagire Diciamo la loro nuova debolezza Nella generazione che sarebbe venuta dopo Insomma Axorus usa coda drago E dovrebbe liberarci il passaggio In theory Troppo preso, signori miei Devo studiare inglese poi Shakespeare Non è tanta roba Basta così, Axorus Wow Bella Non me la ricordavo Stai scena qua di Axorus Che entra nella Pokéball Accidenti Non è riuscito nemmeno A scalfire quel ghiaccio È naturale Questo penso sia Esatto Me lo immaginavo Violante Tu eri nel castello di Enne Certo che però fa freddo Sto tremando Ma sopravvivrò Questa è la sensazione della vita che scorre La prova che sono vivo Questo è un ghiaccio speciale creato dalla tecnologia del Team Plasma Finché quell'essere rimarrà nelle nostre mani Il ghiaccio non si scioglierà E non si spaccherà Mai Ora ti dirò perché siamo qui Aristide Dacci il Cuneo DNA Boreduopoli è la città dove si fondono passato e futuro È il luogo ideale per celare il Cuneo In grado di unire i Pokémon divisi Con tutto quello che avete combinato due anni fa Avete davvero una bella faccia tosta a fare una richiesta del genere Mmm, come immaginavo Se potessi fare di testa mia Vi colpirei con un'altra tempesta di ghiaccio Ma per ora non posso farlo Con questo freddo sarà più difficile Ma continueremo a cercare ciò che vogliamo Signori miei Non a caso ho detto che Boreduopoli è una città Che unisce passato e presente Io... Ok ragazzi scusatemi il taglio Ma ho avuto un attimino da fare Comunque Eccoci qua Boreduopoli completamente congelata E ora noi dovremo affrontare le reclute del Team Plasma Stavo dicendo prima se non sbaglio Mentre affrontiamo le prime recluse Non è un caso che Boreduopoli sia stata etichettata Da Violante come città che unisce passato e presente Perché dovete sapere che nelle versioni Bianco e Bianco 2 La città non è come Nero e Nero 2 Ma è diciamo molto più rurale Come se fosse un villaggio poco sviluppato E devo dire che la prima volta che giocai a Pokémon Nero e Bianco Perché io comprai entrambe le versioni Rimasi particolarmente stupido da questa cosa Che è davvero ammirevole secondo me Comunque penso che l'abbiate notato Ma la squadra è stata allenata È stata allenata tutta a livello 50 Più Cynthia che è a livello 52 Intanto fallisce Mega Calcio Perché non si è mai Livello 52 per Cynthia Perché ragazzi è un po' diciamo La mascotte, il capo del team Il capo saldo diciamo Il membro di cui Mi fido di più Più che fidarmi di più Il membro che conosco meglio E quindi nulla Lo vorrei rendere leader di un team Cioè rendetevi conto che c'è Uno Stamfisk Che sta Che comanda sopra un Regice Cosa come hai fatto ottenere tanta potenza Dai tuoi Pokémon Se nemmeno maltrattarli un pochino Soprattutto come ho fatto ottenere tanta potenza Da uno Stamfisk Allora metterei davanti 3-8-3 Così giusto per farvelo vedere E nulla Ho allenato tanto i Pokémon Perché signori miei Bisogna essere obiettivi La situazione si sta facendo Un po' troppo pesante Per i miei gusti Qua è vero la strada è chiusa Allora Tra l'altro starete notando sicuramente La mia nuova capigliatura Sì ho tagliato di nuovo i capelli Tu Non immischiarti Brutta peste Vermiciattolo Minchia Mi offendo tantissimo Dai forza Affrontami Affrontami Vediamo cosa si fa Magnezone Perfetto Vai 3-8-3 Il tuo momento Fai un colpo Non lo so Erbapatto Erbapatto di tipo veleno Tutto sensato Non gli ho fatto niente Assistente Oltraggio Ok Ah ok Wow Mi hai fatto davvero tantissimo male Signoraggio Ok Già ti faccio qualcosina di più Tanto adesso tu continua a fare oltraggio Che poi ti confondi Bravo pirla Aggiungerei Signoraggio vai di nuovo Oltraggio Adesso dovrebbe confondersi Signori miei Perché non ti sei confuso Ok Perfetto È morto 2741 punti esperienza E shellgon Signori miei Shellgon che spero Perirà Morirà Sì Palla clima Danza spada Ok Devi morire Oh Perfetto Minchia Se avesse attaccato Sto strozzo Mi avrebbe buttato giù Soak 383 Tra l'altro Signori miei Devo essere sincero Questo team qua Non mi entusiasma Tantissimo In particolare Arbok Lo trovo un pochino Nel frattempo Minchia Le case C'è proprio La cattiveria No Ora Exactly Io cosa dovrei fare Sì signori miei Questo inglese qua Mi sta prendendo troppo Madonna Non so cosa devo fare In realtà C'è Forse Forse dovrei parlare Con Aristide Sono diventati più forti Creepy Tu pensa agli altri Ah ok Perfetto Devo cercare gli altri E menarli Ma Tecnicamente l'ho fatto C'è O che meno Sono perso qualcuno A te Non mi sfidi Ok Perfetto Buono sapersi Vediamo di qua La regione è congelata Signori miei Perché non me la ricordo Effettivamente Ma dovrebbe Essere sì Decisamente congelata E wow Non si può passare Ah beh Però posso fare il giro Brutti ebeti Cioè Cretini Allora dai Su veloce Perché abbiamo poco tempo Da perdere Signori miei Ve l'ho già detto Che poi devo andare a studiare Non deve durare troppo Sto episodio maledetto Già ho fatto un taglio La cosa non mi piace Il mio obiettivo Era andare a studiare le 6 Probabilmente non succederà Ottimo così No figa i parkour Col ghiaccio in città No però Ti prego Ok perfetto Eccolo lì Lo strunz Vieni qua Ti prendo A saccagnate in testa Bastardo Allora Lo prendiamo un po' a botte Signori miei Poi in teoria Dovrebbero essere finiti E ah E lui Il solo E unico Semaforo Ciao però Ti devo salutare Spero di rincontrarti In questa challenge Primo o poi A parte che tanto ti evolvi Quindi Cioè Non lo avrò mai per sempre Mainum Muori ti prego Mi fai schifo E' uno dei poco più inutili Dell'esistenza Sei un cancro allucinante Ira di drago Soffri Qua Urto scuro Aia No ok Perfetto Per fortuna Soak regge abbastanza bene Signori miei Ancora urto scuro Cos'è sta mafia No 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 Soak Ascolta Ok perfetto Ci siamo capiti Mi ha axato la velocità Signori miei Perché mi hai attaccato per primo Brutto infame Devi morire Urto scuro E tanto adesso ci muori Quindi sti cazzi Ciao Minum È stato un piacere O Mainum Penso si dica Mainum Non Minum Cioè Minum È inascoltabile Ora che ci penso Se non erro Mi era stato ordinato Di setacciare la palestra Palma pa Ah Ah forse Il coso è nella palestra Raga Il cuneo DNA Giusto Potrebbe essere nella palestra Effettivamente Lol Ciao Ti prendo a botte Accidenti Dover lottare con questo Fred È dura ma Finchè tremo Vuol dire che sono vivo Ancora con sta storia Minchia due coglioni Signori miei Tra l'altro questo qua Dovrebbe essere lo stesso tipo Che in Pokemon Nero Era il deposito frigo A lamentarsi per il freddo Cioè capite l'intelligenza no Solo in un deposito frigo Mmm Cosa potrei fare Potrei lamentarvi sul fatto Che faccia freddo Perché è un deposito frigo E già si può denotare L'intelligenza di questo essere Comunque Proviamo un colpo Così diretto Ariados lo prende in quel posto Il nostro spider Signori miei Chi se lo ricorda Pokemon Light Platinum Randomizer Nuzloc Per fortuna che non Non utilizza Puzioni Lo stronzo Sto diventando Dislessico Furia di studiare Troppo inglese E dai Ma andiamo con stanza Solo per lo sfizio Di toglier Solo per toglierci Lo sfizio Dio mio Non so parlare Di fare un perforcorno 100% efficace Super efficace Ciao E' stato bellissimo Perfetto Livello 51 Per lui Crobat Ok Crobat Proviamo Arbok Ragazzi appunto Mi raccomando Consigliatemi il soprannome Lasciate un mi piace E rispondete alla domanda del giorno Mi raccomando Ah si Ha imparato Fendi Spazio Una robina da nulla Tra l'altro Ha un attacco speciale devastante Quindi a regola Ok l'ha quasi buttato giù Arbok evita l'attacco E olè Tra l'altro Fendi Spazio 100% di precisione Cosa che non credo sia normale In realtà non ne sono sicuro Come anatore sei proprio forte La sai lunga su come usare i Pokémon Beh Credo che sia giunta l'ora dei saluti Tra l'altro questo freddo Proprio non lo sopporto Ma immagina l'intera regione di Unima Ricoperta dal ghiaccio Otterremo alcuno DNA Costi quel che costi Ok Incredibile Grazie a te ce l'abbiamo fatta Voglio anche ringraziare La grande squadra Che ha lottato con te Lascia che la curi Si sei un figlio di puttana Mi hai ammazzato Il più forte della squadra Non lo so Ah mi dai il cuno DNA Immagino Questo è un nuovo record Di andata e ritorno Guarda qui Creepy Questo è il cuno DNA Eccolo qua Wow Era questo Che quelli del Team Plasma Cercavano E per fortuna Non sono riusciti A metterci sopra le mani Non so qual sia il loro piano Ma non può nascondere nulla di buono Grazie al cazzo Hanno appena congelato una regione Intanto trio scuro Con che host Come avrei visto Il nascondiglio era la palestra Capisco L'aveva pensata proprio bene Se non c'è Se non c'è Aristidee Come facciamo a entrare? E se c'è Bisogna affrontare un avversario temibile Quindi era questo il motivo Per cui la palestra è stata ristrutturata Ma ora alcune DNA È nelle nostre mani Non avrei mai immaginato Che non vi sareste fatti scrupolo Nemmeno di sfruttare uno dei vostri sette saggi Non vi interessa altro Che il cuneo DNA Esatto Costi quel che costi Raggiungeremo il nostro scopo A differenza di N Noi non siamo in grado Di conquistare il cuore della gente Però Abbiamo della nostra Un incredibile potere Con il quale soggiocheremo tutti Siamo stati pazienti Per ben due anni Ma ora Basta Eccoli qua Ma se lo sono scavallati? Sì 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 Siamo stati scavallati Decisamente Se siamo stati derubati Non ci resta che andarci a riprendere Ciò che è nostro La gallia a Cesare Date a Cesare Quel che è di Cesare Ok E non vorrei sbagliarmi Ma suppongo di dover andare a Grecalopoli Finalmente Dopotanto te Ciao No 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 Mi servi Ti devo I have to speak to you Vieni qua Maledetto Ok Cosa vuoi Sembra che non sia qui vicino Ma fate attenzione se c'è chi Sa non celare bene Che cazzo devo fare raga Sapete che Non so cosa devo fare Potrebbe essere nella casa di No Oddio Non ricordo quello che devo fare Sul serio Non ne ho No Adesso ho qualche idea Comunque si Dobbiamo affrontare il trio scuro Oddio Signori miei Oddio Una cosa che in nero avevo sempre sognato di fare Che non avevo mai fatto E che Con nero 2 È finalmente possibile Proviamo un surf Così su due piedi Proprio Perfetto Grazie per aver rovinato i miei sogni Di gloria Muori 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 Non gli ho fatto niente Tornado mi farà malissimo proprio Mi ha tolto uno sputo Palla clima E Madonna quanto regge sto coso Quanto regge sto coso Troppo forte E vedi di schiattarci Olè Perfetto Vedo che comprendono Alla perfezione Sti Pokémon Guardate signori miei Proprio Il top del top Bonsly Colpo Perfetto Non gli ho fatto una sega Ho disinvolto La mia abilità Diventa disinvolto Ciao Ritorna Titanic Ma andiamo Boh in questo episodio Non ho ancora combattuto Lunala Quindi direi di mandare Lunala Why not Tra l'altro ho visto che L'ho apprezzato davvero tantissimo Cioè Proprio commenti in cui Volevate la sua morte Ma vabbè Povero Lunala Povero Lunala Lunala che però Se non lo uccide Farà una fine Abbastanza de merda Ok perfetto Vedo che già Un pochino Stiamo ragionando Perfetto Olè Penso fosse di tipo Lotta quel trappinch A giudicare dalle combinazioni Di tipi che gli han fatto male E quel trappinch Scusate quel bonsly Questo è un trappinch Signori miei Sono totalmente fuso Capitemi Ok Il primo è andato Ok ma Ah Eccoti qua Accidenti Non affliggerti creepy Tu hai fatto un ottimo lavoro Sono stato io a non essere all'altezza Ok Chi cazzo Questa sarà Aralia suppongo Vediamo No è rocet Creepy Una strana nave Sta volando verso Boreduopoli L'ho vista anch'io Vado a controllare Comor è la nave del team plasma Vero Puoi scommetterci Ad ogni modo Dovremmo atterrare a momenti Dovrebbe atterrare a momenti Mi raccomando Pensaci tu Creepy Se hai bisogno di me Chiamami E buonanotte Ci hanno già ghiacciato Ammazzato Se solo mi potessi dividere in due Potrei difendere la città E seguirle allo stesso tempo Eccoli qua Cioè eccolo qua Penso che adesso arrivi anche rocet Creepy Ah reside Stai bene anche tu Perfetto Comor Si è diventato proprio grande Ora sei capopalestra di Elisopoli Vero? Ho sentito dire che la tua palestra Prende il posto di quella di aloe Esatto Ma ora Ma ora non abbiamo tempo per i con Con Non Con Non ho letto Sarò sincero Credo di sapere dove si nasconde il team plasma Il luogo con la temperatura più bassa di tutta Unima È vicino a Grecalopoli Io e rocet andremo a cercare il team plasma Aristide Tu resta pure duopoli La città ha ancora bisogno di te Aristide è l'eroe che Gotham No com'è che era? Aristide è l'eroe che Gotham merita Ma non quello di cui ha bisogno Ok signori miei Come sospettavo bisogna andare a Grecalopoli Quindi direi che andiamo a Grecalopoli E poi stoppiamo Perché devo 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 andare Quindi ora suppongo che il simpatiale Faticissimo tipo Quello che tra l'altro Paradossalmente la città più Ok tra l'altro qua non c'è la neve Paradossalmente la città più calda di Unima È quella più al nord Ma gg davvero E nulla Dovrebbe essersi sbloccato il passaggio sottomarino Quindi andiamo nel passaggio sottomarino E poi stoppiamo appunto l'episodio Lo facciamo molto velocemente Su Vi scopo tutti vi giuro Creepy dove sei? A spiralia perfetto Attraverso il tunnel Sì lo so Non sono mica ritardato Non è che vado a spiralia A caso sai Ok perfetto Vero che nel turbino non mi caga il cazzo Esattamente Ma il tunnel marino In teoria dovrebbe essere Una figata pazzesca Se non ricordo male Ma che roba Spettacolo Signori miei Che bella Minchia per un attimo Pensavo che quella fosse bella Guardate che bello Quel basculin Raga Qua è tanta roba Frillish Basculin Un altro Frillish Questi Che non so chi siano Wow Bellissimo Quasi ai livelli del Del ponte freccialuce A livello di scenografia Davvero Grandissima idea Di mettere un ponte sottomarino Che poi non è un ponte Un passaggio sottomarino Un ponte sottomarino Signori miei Grecalopoli Città molto stile Hawaii Allora Vediamo cosa vuole lui Dobbiamo soltanto ritrovare Il cuno DNA Per prima cosa Devi sconfiggere il capo palestra Ok signori miei Il capo palestra però ovviamente lo affronteremo nel prossimo episodio Perché oggi non abbiamo tempo Suppongo che siamo già arrivati A quasi 20 minuti In ogni caso il video di oggi termina qua Spero che vi sia piaciuto Se così invito come al solito A lasciare un bel mi piace A commentare e a iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Rispondete alla domanda del giorno Consigliatemi un soprannome per Arbok Mi raccomando signori miei Così almeno possiamo dare Posso permettere Diciamo anche a voi Di dare un tocco a questa serie Un tocco vosso Una vostra impronta E nulla Passate ai social che trovate in descrizione E noi ci becchiamo in un prossimo video Ciao Ciao